Cari amici, buonasera. Anzi, qualche d'uno mi ha fatto notare che il termine cari amici si usava negli anni 60 e quindi non gli va bene questo saluto che sto facendo. Amici, suggeritemi un altro saluto perché io non so più cosa fare. Cioè, ormai non riesco più a farne una che vada bene, perché qualche d'uno ha sempre qualcosa da dirmi. Comunque, se i problemi fossero tutti questi, ben vengano. Però se avete dei modi diversi di suggerirmi come aprire la serata, io problemi non ne ho. Stasera apriamo in maniera un pochino diversa. In primis perché durante l'estate, anzi prima dell'estate, c'è stata una serie di comunicazioni con famiglie, amici, conoscenti e chi mi segue nella trasmissione, dove mi hanno chiesto più volte di parlare, di dire qualcosa sull'annullamento del matrimonio. Visto e considerato che io, quando parlo, mi sentono che sono cattolico, cattolico praticante, e quindi di dire due parole su questo. Io in prima istanza ho detto, amici, io distarrò dell'annullamento del matrimonio, proprio non ne so nulla e non ne so nulla, ma nulla, nulla, sul serio. Però ho detto, mi documento, cerchiamo di sentire qualche persona informata. Mi sono arrivato il mio parroco, il mio parroco mi sta mettendo in contatto con dei grossi personaggi. Ci sono forti possibilità che una di queste serrate, al mio posto, potreste trovare un alto perlato, il quale potrebbe parlare, comunque ci stiamo organizzando. Ecco, vorrei che sia chiaro che non mi sono dimenticato di chi mi aveva scritto e di chi mi aveva contattato o meno. Ci sono molte probabilità, ci stiamo accordando per avere una trasmissione con un grosso personaggio. E questo è un'anteprima d'apertura. In seconda battuta, un carissimo amico, tra l'altro da metà Italia, si era lamentato che avevo parlato poco di quel problema, di quel bambino che era stato preso lì a Verona con forza. Perché? Forse poteva anche aver ragione che io ne avessi parlato poco e avessi non difeso in sostanza le forze dell'ordine, e non solo le forze dell'ordine, ma bensì gli psicologi e gli assistenti sociali di quella città, che a un certo punto cercavano di mettere in esecuzione l'ordine del tribunale. Io mi sono giustificato anche in parte perché cerco sempre di stare il più equo possibile, il più al di sopra delle parti possibili, perché se entri nel lagone, che poi prendi una parte e non siamo allo stadio, quindi il problema diventa duro. Allora lui mi ha fatto una telefonata durissima, ci siamo sentiti in maniera forte o meno, mi ha scritto una lettera molto dura, che poi alla fine, e sta lettera è andata avanti due o tre volte, e l'abbiamo chiedendogli sempre per favore, mai imponendo nulla, non mi mettere in condizioni difficili o meno, e alla fine ha consentito di mandarmi questa lettera di un'esperienza che sta vivendo lui in prima persona. Pur essendo single, quindi non si è mai sposato, è un grosso informatico, e lavora per un sacco di aziende del centro Italia. E apre così. Carissimo, carissimo, questa volta ti scrivo io, l'altra settimana hai letto la lettera più urbana degli straccio vestiti, persone che si stracciano i vestiti di dosso perché qualcosa li scandalizza, che erano arrabbiati per il video del ragazzino che il tribunale ha assegnato al padre e che la madre pretendeva di non consegnare bene. A mio parere si erano sentiti offesi da delle immagini di parte e, a mio parere, volutamente scioccanti. A quegli straccio vestiti voglio chiedere, ma le madri sono tutte innocenti? Spero che siano abbastanza svegli da capire che forse dovevano avere più dubbi ed avere una visione più disincantata di quello che fa vedere la televisione. Quello che ti dico in questa lettera lo faccia alla luce della mia esperienza, come tutti ho amici ed amiche che hanno divorziato, in un caso pure passando attraverso la Sacra Rotta. Quasi tutti sono stati attori di matrimoni che andavano evitati. Un'amica si era fidanzata a sedicenne con uno di una decina di anni più vecchio di lei. Credendo di trovare l'indipendenza, a 28 anni, dopo 5 di matrimonio, si rese conto dell'errore e chiuse l'esperienza. In un altro caso lui constatò che per stare insieme uno dei due si doveva annullare psicologicamente, concetto che a lui come a me ripugna, e chiuse quel capitolo della sua vita. Praticamente la stessa cosa con l'amica che è passata attraverso la Sacra Rotta, dopo l'errore ed un anno e mezzo per vedere se si poteva salvare la cosa, ha giustamente chiuso. Dopo un po' di tempo dalla separazione del suo confessore, consigliere spirituale, l'ha indirizzata alla Sacra Rotta. Dopo l'esame del caso ha proceduto all'annullamento del malfatto. In tutti e tre i casi, che ho brevemente elencato, che hanno interessato coppie senza figli e si sono risolti in un modo abbastanza pacato, al massimo qualche epiteto della madre e della controparte, i miei amici sono ora dei genitori felici in famiglia con la F maiuscola, che ti piaccia o no, visto considerato che io sono contrario al divorzio. Di questi tre casi sono stato testimone, anche se informato a distanza, ma non è. Per essi che ti scrivo, il caso che mi porta a scriverti è un quarto caso, l'ultimo in ordine di tempo, ed è quello di cui sono testimone molto più da vicino e che potrei diventare testimone in tribunale. Quest'ultimo caso è nato per scelta, a mio giudizio sbagliata, di lei. Per la precisione è capitato dopo che lei aveva avuto gravi problemi fisici. Ristabilitasi fisicamente dall'operazione, a mio parere, non ne ha affrontato nel modo corretto i risvolti psicologici. Quest'errore l'ha portata a chiedere la separazione. Separazione che ottenne in modo consensuale, che è stata... L'altro pezzo del cavolo... Oh, ah ecco, mi sono perso il pezzo. Fatta praticamente a termini economici e non da lei richiesti. Il problema che riguarda la figlia è iniziato di lì a poco, dopo che lui si era trovato un bijou di donna e si presentò in tutta la sua crudezza nel momento in cui furono avviate le procedure per concludere il divorzio, addempimenti che lui voleva chiudere in modo da poter sposare la nuova compagna. A quel punto l'ex moglie ha iniziato a mettere i bastoni tra le ruote, facendo una richiesta economica a mio parere esagerata e dico ciò perché superava quello che era il reddito cumulativo che lei ed il mio amico avevano raggiunto durante il matrimonio. Partita quella richiesta che, per quanto posso capirne io, non ha molte giustificazioni legalmente sostenibili e ha anche iniziato quello che io considero un uso improprio della figlia da parte della madre, la quale figlia mi cercò via posta elettronica per avere informazioni precise sugli spostamenti del padre in vista di un'udienza che si doveva tenere da lì a poco. Affermo ciò perché le domande che mi erano state poste dalla figlia del mio amico non avevano ragione di essere per una ragazza di 14 anni e poteva farle direttamente al padre e soprattutto perché erano fatte in un momento in cui alla madre poteva essere utile sapere se la controparte sarebbe stata presente o no all'udienza. Inutile dire che quella è l'unica occasione in cui ci fu uno scambio di mail con la ragazza. Sono passati dei mesi e da quella richiesta diretta di informazione ed ho saputo che l'avvocato dell'ex moglie ha comunicato al tribunale e quindi alla controparte che mi vuole convocare in qualità di testimone. Questa è la mia esperienza che mi porta ad essere molto più smaliziato dagli stracciobestiti, su quello che i genitori si fanno durante e dopo una separazione. Non per niente sull'argomento è stato fatto un film intitolato La guerra dei roses, esattamente come tanto tempo fa sui problemi del divorzio con i figli fu fatto Kramer contro Kramer. Allora Paolo. Grazie. E adesso amici iniziamo la nostra trasmissione. Lo so, sembra assurdo, sono innamorata persa del mio vicino di casa sposato ovviamente, è bellissimo, educato e cordiale. Ogni volta che lo incontro in ascensore mi riprometto di fargli una proposta ma poi non trovo mai il coraggio. Secondo lei dovrei restare nel mondo della fantasia o fare qualche tentativo? Ma, caro amico, mi dici che lui è sposato? Cioè, lì significa andarsi a cercare il male come il medico, eh? Cioè, io non vorrei essere preso per un bacchettone e forse lo sono anche un bacchettone. Non dico di no. Però, amici, cari, il concetto per questa amica è, sai che hai sposato? È un tuo vicino di casa. Ti sei fatta un film. Ma te la sei fatta solo tu, il film. E diventa difficile poi da sostenere un'altra cosa. Rischi di infilarti in un... in un guaio che... con il sogno che hai a che fare. Capisci? Non è che io dico no perché è peccato, perché è qui, perché... non dico no per quello, dico... è già impegnato. Magari non sa che neanche se... che tu ti sei fatto determinati... ti sei fatto un determinato film. Che senso ha andare a toccare determinati argomentazioni? a me se non concesso e ti dica... mi può anche andare bene, sei la mia vicina di casa. Se voglio togliermi qualche frillo... me lo tolgo. Perché poi alla fine si arriva ad essere... poi siamo degli animali, no? Cioè... il piacere per il piacere va bene. ma tu che film ti fai? Questo poi... pensi che lascerà la sua famiglia per stare con te? Puoi fare dei sogni, dei progetti? Cioè... ragazzi, io... cerco di capire tutto... cerco di capire tutto, via... quello che posso... cerco di venirvi incontro... cerco di esservi vicino... però certe volte... certe richieste... sono pesanti... è difficile darvi una risposta... io... in cuor mio... una cosa del genere direi... ma lascia perdere... ma non... ma cercati qualcosa di libero, tranquillo... da poter fare un film sul serio... della vostra vita in comune... io... penso più che sia una cosa... cioè... tu non mi hai scritto quanti anni hai... ma direi... oddio... può capitare a tutte le età... cioè... prima che qualcuno mi rimbecchi su tutto... perché oramai... amici... io vengo... credetemi... che mi fanno la punta alla matita su qualunque cosa... anche quando... mi rivolgo a voi dicendo... non so... un termine... che è sbagliato... vengo richiamato all'ordine... la mail... questo... quell'altro... o l'amico per la strada mi dice... oh... non sai più parlare l'italiano... amici... io vado a braccio... andando a braccio... è molto più facile... errare anche nella terminologia o meno... aiutatemi... però... concedetemi anche qualche errore... sono molto... umano... quindi... faccio tanti errori... quindi... cara amica... quello che tu mi stai chiedendo... è più per una giovane donna... molto giovane... sono cose che... passano più per la... quindi... vado per induzione... perché non ho nulla in mano da poter dire... se hai... se sei molto avanti con gli anni... o... non uno... però... queste sono lettere... che con l'esperienza che mi ritrovo... sicuramente... sei una giovanissima donna... e... una giovanissima donna potrebbe benissimo... far partire la testa... a un uomo adulto... che dovrebbe dare l'esempio... magari però... si lascia... trasportare dei sensi... e allora potrebbe benissimo... ma quando avete fatto qualcosa di... di poco... che cosa vi rimane? quale... non rimane niente di che... rimane una cosa squallida... quindi... passa oltre... è un consiglio che ti do... proprio spassionato... passa oltre... chiedo scusa... ho 48 anni... da poco sto con un uomo... poco più grande... è una persona stupenda... con cui mi trovo veramente bene... ma... c'è un suo atteggiamento... che non riesco... a spiegare... dopo ogni notte... trascorsa piacevolmente... insieme a lui è... lui è triste... piange e vuole essere lasciato solo... ho cercato di capire... il perché di questo comportamento... ma non ne ho ricavato molto... non riesco a capire... se ci si possa essere... una mia... qualche responsabilità... vedi caro amica... io non... non sono... in grado di dirti... quale motivazione è o meno... però... intuisco che tu sei una grande donna... perché stai vicino un uomo... che al mattino sta soffrendo in modo particolare... lo stai... coccolando... lo stai amando... nonostante che... abbia... in cuor suo... un dolore che non riesce a capire... una tristezza che non riesce a capire... allora vedi... su... queste circostanze... non è sufficiente... la parola di uno di noi... cioè così... generica... generalizzata... che possa essere... anche di supporto... ma... il più delle volte... rimane di conforto... lì... dovresti... affidarti... a qualche specialista... io non so... da dove mi hai... mi hai mandato questa mail... cioè... perlomeno... sì... ho l'indirizzo della mail... però... non so da dove è partita... quindi... io ti posso dire... se sei qui nel... nel triangolo... Genova-Torino-Milano... io ho degli amici... che fanno la professione... di... di psicologo... chi è psicologo... chi è sociologo... chi è... chi fa questa professione... con una certa serietà... perché... anche questo... in qualunque... categoria... c'è il buono... e il meno buono... e il trofaldino... quindi... se tu sei in questo triangolo... io ti posso fare... un qualche nome... se tu fossi... in su... ad esempio... nella capitale... a Roma... io ho una conoscenza... di una persona... spettacolare... squisita... spettacolare... con una capacità enorme... ecco... d'altro... io non so cosa dirti... questo... per poterti consigliare... una persona... che ti possa... senza... fare un mutuo... perché... si rischia... in queste cose... dover fare un mutuo... per poter... riuscire a trovare... qualche risoluzione... quindi... ti dico... se sei in questo giro... ben volentieri... ti posso far suggerire... dei nomi... anzi... magari la prima... eh... seduta... con questi... sono convinti che... se gli do una telefonata io... magari è anche gratis... perché... in via... d'amicizia... no... e sono persone... realmente valide e serie... se sei fuori dalla mia portata... io... cara amica... non so come aiutarti... però... puoi sempre informarti... nella tua città... quali che sono... i prezzi... e... il tan tan del passaparola... quello che è valido... perché... lì... devi trovarti una persona... che sia veramente valida... e che ti possa assistere... su quello... io ti posso dire... poi se mai... discutiamo... si può anche discutere... come cercare di portarlo... perché non è facile... perché... tu mi dici che hai 48 anni... lui ha qualche anno in più... quindi hai già superato i 50... 51... 52... e parlare di psicologi... o sociologo... o qualcos'altro... diventa difficile... farlo entrare... in quell'ottica di idee... comunque... su questo... io ti posso essere vicino... d'altro... io... con... dal profondo del cuore... non so cosa dire... e qui... gli amici... vedete quanti limiti ho... che mi dicono... ma tu... ho parecchi limiti... perché purtroppo... non sono in grado di fare altro... comunque... amica... scrivimi... io sarò sempre vicino a te... d'accordo? ho 43 anni da tempo... ho una relazione stabile con un coetaneo... a cui sono molto legata... ma non conviviamo... c'è un unico problema... che mi fa molto soffrire... a lui piace raccontarmi... dei suoi successi... con le altre donne... delle attenzioni... che riceve da loro... senza però... mai andare... oltre... a detta sua... io sono contento... di avere un partner piacente... ma a volte... il suo atteggiamento... mette in crisi il nostro rapporto... cosa posso fare? lì è triste... quando abbiamo un ego... così grande... così enorme... che viaggia... ovunque... è molto difficile fermarlo... anche perché... se tu riuscissi a fermare quell'ego... quell'uomo... lo... lo... comprimeresti... e perderebbe il suo... carisma... il suo ascendente... la sua forza... o meno... cioè... togliergli l'ego... sarebbe come... Sansone... quando è che gli hanno tagliato i capelli... muoia Sansone... con i figli stei... cioè... il concetto dell'ego... purtroppo è quello... quando hai degli... delle persone... che hanno degli ego... così enormi... se... prima è difficile... contenerli... ma... se poi... dovesse capitare... che... riesci a contenere questo ego... o meno... si rischia... l'implosione... cioè... rischi di... 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 perdere il suo fascino... perda... le sue capacità... o meno... quindi... non... non è così semplice... come possa sembrare... che... purtroppo... è un difetto... enorme... poi... in modo particolare... se viene ancora a casa... a rompere le scatole... dicendo... c'è qui... c'è là... e allora diventa... difficile... però... devi trovare una soluzione... io sono convinto... comunque... che... ego... però... se lui sta con te... volere volare... e... l'uomo è tuo... giustamente... tu puoi dirmi... e beh... ma sai... che l'uomo sia il mio... ma che qualche frutto... vada fuori casa... mi dà fastidio... in queste condizioni... è difficile... poter... trovare determinati equilibri... o meno... io... posso dirti una cosa... l'uomo è come un fucile... a ripetizione... quando il fucile è scarico... la lepre può passare indisturbata... penso di essere stato molto chiaro... no... sei una giovane donna... perché hai 43 anni... eh... sei una giovane donna... sicuramente sei piacente... fatti valere... è una soluzione... poi qualcuno potrebbe dire... ecco... tu la metti sempre su questi rapporti... beh... ma... a un certo punto bisogna avere anche un po' di legittima difesa... no... cioè... bisogna anche... sentirsi... cioè... un minimo di legittima difesa ci vuole... quindi... senza metterla soltanto su quello... perché ci vuole tutto... io capisco anche quest'uomo qua... poi ci sono anche i galletti che dicono che... ma però poi... effettivamente se... vai a verificare... sono solo delle parole... tu vivi con lui... e quindi... o perlomeno... se non... non convivete proprio... però... hai una percezione particolare... quindi... sei quella che può essere più vicino... a tutto... quindi sta a te... metterti nell'opportunità o meno... di riuscire a fare... vedi tu cosa puoi fare... l'ego è difficile... da contenere... qualche d'uno direbbe... restituisci la pariglia... ma se si iniziano a fare le picche... le ripicche... non ci si salva più... se si inizia... non... non se ne esce più... quindi... dammi retta... cerca di prenderlo... o... puramente... se proprio... è incontenibile questo... vedi tu cosa puoi... vuoi fare... cioè... se lo puoi sostenere... lo sostieni... se non lo puoi sostenere... ma... comprimere quello diventa difficilissimo... e... sicuramente... non con chiodo... schiacciachiodo... ecco... come... cioè... mettersi... allo stesso livello... perché... se si scende su quegli agoni lì... poi non si sa poi come uscirne fuori... credimi che... ho molta esperienza... in... in... primo perché... ho più di vent'anni... di te... cara amica... poi... perché... è una materia che tratto... costantemente... e tutte le volte che si è usciti fuori su... forme... la cosa è sempre andata... in... in una forma... errata... quindi... io... cercherei di... 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 se posso andare avanti così... bene... se non posso andare avanti così... glielo direi chiaramente... ne... ne dialogherei... però... se viene a casa a raccontarlo... è sempre meglio che... che stia zitto... perché normalmente cancabaia... difficilmente morde... mettila anche su questo piano... sicuramente a te dà fastidio... però... ricordi sempre che... cancabaia... non morde... hai capito? è... un modo come un altro magari... per sentirsi vivo... può essere... un modo come un altro per sentirsi... agli occhi tuoi... un grande uomo... a volte potrebbe anche essere... un senso di inferiorità... ma quando è che... vanno così... con un lego così grande... cioè... io non ho... la... la possibilità... primo perché non vi conosco... di... di aver la risposta... esatta... non esiste... primo perché non vi conosco... secondo... perché... nella testa delle persone... non c'entra nessuno... eh... ma nessuno può entrare nella testa delle persone... se non vogliono farti entrare... se poi vogliono farti entrare... allora un altro paio di maniche... ma se non vogliono farti entrare... dentro la testa... nessuno può fare nulla... quindi... sta da te... trovare degli equilibri... comunque... prima di decidere qualunque cosa... fai una bella disoluzione... però attenta come la fai... perché se lui dovesse... non parlartene tu... allora potrebbe diventare pericoloso... salvo che lui non cambia stile di vita... perché anche lì potresti accorgersi... se cambia stile di vita... cioè... purtroppo... anche perché non c'è la soluzione ottimale... cioè... la soluzione è quella... è una soluzione matematica... e basta... purtroppo qui... la soluzione è... del buonsenso... della saggezza... e della percezione... di quello che si avviene tra uno e l'altro... hai capito amica? questa è dura... questa è dura... perché a rispondere a questa... avrò difficoltà... bevo prima... sono incinta di sei mesi... e stasera ho litigato... per l'ennesima volta... con il mio fidanzato... lui esce ogni sera... con gli amici... va in discoteca... e mi sembra... che in diverse occasioni... abbia anche bevuto un po' troppo... questo suo comportamento... non mi piace... credo che quando... un uomo sta per diventare padre... dovrebbe iniziare a cambiare... il suo stile di vita... o sbaglio... cara ragazza... su quello... hai... tutte le ragioni da vendere... però... io... ti chiedo... prima di... fargli un figlio... non avevi visto... come si... come viveva... o pensavi... che il momento... che io gli rifilo... una responsabilità... questa responsabilità... lo modifichi... perché è un errore... che la stragrande... la stragrande... maggioranza delle donne fa... consce... vedi cara amica... consce... perché voi siete consce... di essere più forti... di noi maschietti... perché la femminuccia... il momento che... diventa femminuccia... già da ragazzina... sui 12-13 anni... che... c'è la maturazione... si rende conto... che vedere una bambina... di 13 anni... 12-13 anni... 14... che è diventata donnina... vedere invece... il ragazzino di 14... vedi proprio... la differenza... di quello che può essere... il modo di ragionare... di pensare... dei due sessi... quindi tu donna... hai avuto la possibilità... e sai... quello che vali tu... sei in grado... di capire... credi... e di avere... una forza... superiore... che il tuo uomo... difficilmente... possa raggiungere... soltanto pensando... al concetto... di quando un uomo... ha solo un po' di raffreddore... quanto diventa l'agnoso... quanto tu donna... sai che per qualunque problema... cigoli... cigoli... ma vai sempre... perché... poi alla fine è questo... anche perché... non so su quale basi... l'hanno fatta... ma... università americane... hanno detto... che la donna riesce a sopportare... nove volte il dolore... che possa sopportare l'uomo... perlomeno... la sopportazione... è quella... così si dice... io adesso... la misurazione proprio... non... giuro che non saprei... da che parte... io... riporto quello che avevo letto... però so... che la donna sopporta... molto più di noi uomini... ma in tutto... in sopportazione... per qualunque cosa... non so... io mi ricordo... anni fa... che... alle catene di montaggio... della... della Sony... mi sembra... quindi... quei lavori di alta... ma... meccanici sempre... ripetitivi... no... cioè... gli uomini scoppiavano... e le donne... reggevano... perché cambiando... l'uomo... mettendo la donna... e facendo ore di 55 minuti... le donne riuscivano a saldare questi microchips o meno... cioè... adesso poi magari... ci sono... le macchine che li ristampano loro... i circuiti... però allora... dovevano fare delle micro saldature... e... in Giappone avevano tolto gli uomini... perché non reggevano allo stress... cioè per dare l'idea... di quanto la donna riesce a... a sopportare il carico... ma avevano messo... sulla catena di montaggio... donne... che poter... reggevano 55 minuti... gli davano i famosi 5 minuti... di intervallo ogni ora... che potessero respirare... non so... fumare una sigaretta... avevano trovato quella soluzione... quindi tu già in tenera età... sai... che hai una forza... che il tuo uomo non ha... e allora... l'errore che noi... che... che le donne... la stragrande maggioranza fanno... è... io... il mio uomo... lo cambio... lo... modifico... come voglio io... c'era un grande... un grande regista... che era Oscar Wai... e soleva dire... la metà delle donne... al mondo... lottano tutta la vita... per cambiare il loro uomo... come lo vogliono loro... il momento che... hanno ottenuto... di avere l'uomo... come lo vogliono loro... lo buttano via... perché non gli piace più... questo cosa vuol dire... che tu... richiedi... che lui... cambi stile di vita... tu... oramai... sei... in uno stile di vita diverso... perché... senti dentro il tuo ventre... che sta nascendo una vita... una vita nuova... o... stai facendo... il miracolo... della vita... dentro... il tuo grembo... c'è il miracolo della vita... questo io lo capisco... però non puoi pretendere... che l'uomo con cui... vuoi condividere... e dividere la tua vita... poi tu possa... comandarlo così... e tu gli puoi dire... cambia stile di vita... perché questo non lo fa... lo stile di vita... deve essere lui a imporselo... tu non glielo puoi imporre... purtroppo... drammaticamente... vero è questo... la drammaticità delle cose... è lì... che non è così semplice... io ti capisco... hai mille ragioni... lui dovrebbe cambiare stile di vita... possibilmente anche compagnia... perché così non va più in discoteca... perché... se tu mi dicessi... esci... e va al bar... fa la partita scopa... e... quella partita scopa... si gioca magari il caffè... e allora... tutto sommato... posso anche capire... però di più no... eh... lo capisco... che tu hai ragione... che non va a fare la partita scopa... e si gioca soltanto un euro... di caffè... però come puoi fare... a fargli cambiare idea... e a cambiare stile di vita... non glielo puoi imporre... e nessuno glielo può imporre... lo capisci... quindi... cosa posso dirti diversamente... dal profondo del cuore... cosa ti posso dire... per aiutarti... devi iniziare a ragionare in questa maniera... che la testa delle persone non si può cambiare... se non sono loro che vogliono... e neanche si può modificare... sempre se loro non vogliono modificarsi... purtroppo la drammaticità delle cose... è questa... la drammaticità... tutta la grande drammaticità è questa... quindi... che non è possibile che tu possa... imporre qualcosa... quindi... amica... purtroppo per te... altri consigli... non saprei cosa dire... vedi... cosa puoi fare... come puoi rapportarti... senti... se vivi in quei genitori o meno... quale aiuto ti possono dare... e come ti puoi... però d'altro... non ti aspettare... di poter imporre... al tuo compagno... lo stile di vita che tu... richiedi che poi... avresti... una ragione santa... è una santa ragione... quella che tu richiedi... però non è possibile dartela... se lui non decide di dartela... buonanotte... buonanotte... amici... ecco... a queste lettere io... quando mi arrivano ad rispondere... anche perché non sai cosa dire... Oddio... io... cerco sempre di... però non sempre riesci... anche perché cosa gli si può dire... ho 26 anni... una famiglia agiata... alle spalle... amante dei viaggi... e della bella vita... da poco più un anno... sto con un mio coetaneo... di cui sono molto innamorata... ma che non ha le mie stesse possibilità economiche... in sostanza... lui non si può permettere di fare la vita che faccio... io viag... che faccio io... viaggi compresi... mia madre sostiene che alla lunga questo ci logorerà... lei che ne pensa... se fosse vero amore... potrebbe durare tutta la vita... ma il vero amore... si costruisce... con tanti sacrifici... io capisco che tu fai una vita molto agiata... e che... la mamma... magari... essendo tu... sua figlia... che normalmente il genitore conosce meglio i suoi figli di chiunque altro... e pensi che... tu non regga... perché alla lunga effettivamente due stili di vita diversi possono creare problematiche... adesso... sei all'inizio... inizio come si può definire... sei nella fase dell'innamoramento... dove che... l'attrazione fisica... ti... ti copre qualunque cosa... ti soddisfa qualunque cosa... ti lascia... nella condizione che... sei in grado di superare qualunque cosa... però questo è un termine... e quando arrivo al termine... sei in grado di portare avanti il discorso... io so per esperienza... che quando... due persone che più o meno hanno... lo stesso stile di vita... più o meno hanno la stessa cultura... più o meno hanno interessi... che si possono incastrare o meno... è già difficile per loro tirare avanti... è già difficile in un mondo attuale... portare avanti questo concetto... se poi i mondi sono diversi... non so quanto tu sei in grado... e quanto pensi di poterti battere... quanto pensi di riuscire a dare... perché poi... devi pensare che... tutto passa... credimi... passa tutto... si riesce... ad avere poi... un grande amore... quando... trasferisci... nel tempo breve... del rapporto... che tutti ha fatto incontrare in quella maniera... vale a dire... l'essere... attratti fisicamente... che con la fisicità si supera tutto... in quel periodo... se tu riesci... a invertire... e a creare condizioni... di stima... rispetto... affetti vari... cioè... tutto quello che è il termine amore... perché... il termine amore... è molto... come si può dire... alleatorio... bisogna vedere... cosa si intende per termine amore... e cosa noi intendiamo per termine amore... capisci cara amica... e se tu... intendi... il... un qualcosa di... di simile a come dico io... e... riuscire ad andare avanti... non è semplice... però... se tua madre... ravvisa determinate cose... forse... perché ti vede... magari che... caratterialmente... non hai mai dimostrato... un grande... quando prendi una strada... l'hai saputa mantenere... fino in fondo... perché un caso analogo... al tuo... mi è capitato poco tempo fa... di una ragazza che... eh... aveva... come cultura... quando non sapeva cosa fare... scendeva... dalle mie parti... una bella fattoria... dove che... loro hanno i... i custodi... perché hanno una bella villa... e andava... al maneggio... prendeva il cavallo... e faceva lunghe passeggiate... si era innamorata... di un... di un giovane locale... qua... faceva il... meccanico... sì... lei pensava che... ma... non ha saputo... perché... perché aveva iniziato... gli studi... di una facoltà... tecnica... poi... li ha interrotti... è passata... una facoltà... umanistica... poi... li ha di nuovo... interrotti... poi... alla fine... si è... rivolta... a queste aziende... specializzate... che ti aiutano... a prendere la laurea... ed è riuscito a laurearsi... con molta fatica... e quindi la mamma... aveva capito... che... il giovane... meccanico... poteva non... dopo due anni... due anni e mezzo... io non so se... se lo saluta ancora... capisci cara amica... perché devi mettere in conto... un po' tutto... non è così semplice... come... sai... si parla d'amore... e basta... se ne parla e basta... ma... mica sempre... funziona così... purtroppo... quando si parla d'amore... se ne parla... ma non... non sempre... l'amore è così... capisci... io ascolterei anche parecchio... cioè... non ti dico di fare come dice la mamma... cercherai di ascoltare il suo consiglio... e cercherai di... di... di farmi spiegare dalla mamma... perché ragiona così... perché io so che sul lungo... se ci sono delle diversità... anche se... se adesso sembrano poche... ma... poi si vedono... e si sentono... sul lungo... sono felice... dopo anni di corteggiamento... sto con una splendida ragazza... che mi ha sempre affascinato... e di cui sono sempre più innamorato... ma ho iniziato a temere... la noia... così ho pensato di movimentare il rapporto con dei piccoli tradimenti... in modo da farla ingelosire... e farla... e farla legare di più a me... e non intendo... e non intendo... avventure... con la prima che capita... si tratta di donne che mi piacciono veramente... sapessi quanto mi esalta vedere lei furiosa... altrimenti che noia... ragazzi... quando io dico... che... ognuno ha il suo modo di ragionare... è perché... io in questi ultimi tempi... cioè... ne sento di tutti i colori... ah... caro amico... io non so cosa dirti... allora... mi scrivi... che è una donna che ti vuole bene... ti piace... perché... a grandi linee è questo... però ti piace... farfalleggiare... e cosa vuoi dire... ti va tutto bene... quale consiglio posso darti... mi hai scritto... non so... per farmelo sapere... ma guarda che io... magari... se ti avessi visto in giro... o se ti conoscessi... perché questo... sto ora il giovane che mi scrive così... non... lo conosco perché ho letto la mail... quindi non so... cosa posso dirti... beato te... mi fa piacere... continua... se stai bene... però ricordati una cosa... una cosa te la posso dire... ricordati... che in una maniera... o nell'altra... la vita ti presenta il conto... e non vorrei che questo conto poi fosse salato... perché adesso sei giovane... sei fresco... sei esuberante... e magari questa donna... che ti vuole bene... che ti potresti creare qualcosa di intelligente... no... la stai... portando alla berlina... non... la metti sotto pressione... la... che noia... e adesso che mi parli della noia... che stiamo parlando della noia... mi ricordo... dei ragazzi... a Tortona... che per passare il tempo... e la noia... erano andati su dei cavalcavia dell'autostrada... a tirare dei sassi alle macchine che parlavano... che passavano... e poi dicevano... che prendevano bingo... prendevano la macchina... poi ci sono stati anche dei morti... anche quelli avevano noia... si sono tolti... si sono tolti... un po' di noia... cioè... io... non so cosa dire... quando leggo queste lettere... e... non ho vergogna a leggerle pubblicamente... quando sento cose molto più... stringenti... che possono... diventa difficile... quindi... se tu sei contento... sei felice... te la godi... e cosa posso dire... beato te... però ricordati sempre... che la vita ti presenta il conto... in una maniera... e anzi... ed è sottile... è molto sottile... è molto sottile la vita... credimi... che in una maniera o nell'altra... ti arriva... ma sappi... che quando arriva... diventa difficile... risalire la china... anche perché non arrivano mai sole... quando arrivano... arrivano sempre accompagnate... qualunque cosa... arriva tutto accompagnato... allora... io... ti chiedo... di pensarci un pelino di più... di non essere così... passami il termine... io non voglio offendere nessun amico che mi sta ascoltando... perché... io so che adesso state facendo dei numeri... cioè... ci sono tanti ragazzi che... si contattano o meno... e si attaccano via... cioè... e vedono questa trasmissione... e questo mi fa piacere... quindi... se c'è una cosa che non voglio offendere... non voglio offendere nessuno... offendere... poi... che non siate d'accordo con me è un altro paio di maniche... ma quello che volevo dire è... il termine... e non vorrei che fosse offensivo... non essere così frivolo... diventa uomo... fatti uomo... e sii pronto... a sostenere qualunque cosa... e fai dei film... con la tua donna... che la vedi come una moglie... con una famiglia e altro... d'accordo? oh... è il bacchettone che parla eh ragazzi... perché mi dicono tutti che sono un bacchettone... va bene... sono un bacchettone ragazzi... l'ultima... cioè... ne ho ancora... però... è l'ultima per stasera... anche perché stasera... non so se voi avete visto... ho cambiato più volte posizione... non... non sono in forma strepitosa... sto... mi sa che sto macchinando l'influenza... mio figlio si comporta come... se il cellulare fosse il suo ossigeno... insomma... vive attaccato al telefono... anche a tavola... un continuo... ma se fa tardi... mai che gli venga in mente di avvisare... usando il suo preziosissimo accessorio... come faccio a fargli capire che i genitori meritano almeno un po' di rispetto? ehm... cara mamma... non ti offendere... perché la risposta è molto offia... che ti do... togli il cellulare... perché se tu gli togli il cellulare... vedi che diventa comprensivo... capisce... compagnia bella... devi sapere che qualunque cosa che dai a tuo figlio... devi sempre metterla in condizione di capire che non è una cosa dovuta... ma è una concessione che fai... l'errore che tutti i genitori fanno... è mettersi lì e cercare di dare ai figli... dare... 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 ovviamente l'ora fuori di prendere... tutto gli è dovuto... mettetevi nelle condizioni di pensare che non è dovuto... mettetegli nelle condizioni di che sappiano che non gli è dovuto... glielo date perché è una concessione... viene concesso... non è dovuto... quindi... il concetto che io dico... è questo... fermiamoli i nostri figli ogni tanto... basta staccare la spina a questo cellulare... basta staccare questo cellulare in maniera che non si rendano conto che questo cellulare... non possono vivere del cellulare... e se hanno il cellulare... non ne devono fare... nulla... tutto quello che devono fare... usarlo... con parsimonia... uno... e poi se non lo adoperano per accontentare i genitori... questo cellulare può andare a finire... in soffitta... ecco... è un insegnamento... che serve anche a loro... ma più a noi... più a noi genitori che diamo troppo... perché la drammaticità delle cose è questa... che noi genitori diamo troppo... e... senza che magari i nostri figli se lo meritino... Amici... anche stasera abbiamo raggiunto la fine della trasmissione... io ringrazio tutti gli amici che mi stanno ascoltando... che hanno... che avete la pazienza di sentire sto vecchio... barboso... che... è sempre pronto a cercare di dar consigli... che tante volte dovrebbe essere lui il primo... a ridurli questi consigli in maniera che... più le menti siano più aperte... ma... sono qui per cercare di rispondere... e spero di riuscire a rispondere sempre... con... un minimo di equità... e... con buon senso... vi lascio la buonanotte... e... per quanto riguarda... a quello che avevo detto all'inizio... il parroco mi deve dare dei... dei raguagli in settimana... lunedì magari... mi dirà... se arriva qualcuno... e... e... chi arriva... non lo so... io lunedì vi darò i raguagli di... di... di quello che mi avete chiesto... che si parla dell'annullamento del matrimonio... e se effettivamente... riusciremo qui ad avere in trasmissione... un alto prelato... d'accordo? vi lascio la buonanotte... sogni d'oro... a lunedì!